Ogni anno gli auguri di Natale sono sempre di più, eppure vorrei che vi soffermasse un attimo a pensare che lo si fa col cuore, è un augurio che viene dal cuore. Godiamoci questi momenti, godiamoci questo arrivo, godiamoci queste feste con la nostra famiglia, con i nostri affetti, con tutto ciò che riteniamo importante per la nostra vita. Questo è quello che Biforite oggi si sente di regalarvi, un augurio sincero che arriva dal cuore e che invita a tutti a gustarsi ciò che finalmente ancora oggi noi abbiamo. In quest'anno abbiamo fatto tanto insieme, Biforite ha lavorato, ha lavorato in tour, è andato in Europa, ha lavorato col grande evento, col saluto a Campbell, e Biforite lo deve a voi. Per questo noi vi ringraziamo, grazie per quello che siete, grazie per averci seguito, grazie per continuare a credere in noi e soprattutto per non mollare mai. Si sta cambiando tanto, state cambiando tanto e state facendo tanto per tutti quanti. Continuate a crederci e festeggiate il vostro Natale. Un augurio di cuore.